Deep Sea Allora, Deep Sea, pezzo che insieme a Infinity è stato scritto apposta per il centro immersivo multimediale dell'area marina protetta, Tereia pezzi che sono stati utilizzati per gli spot immagini di Gian Piero Mulas e montaggio dell'AP Motive SRL Deep Sea è importante perché comunque vivo ad Alghero e Alghero è una città di mare vivere in una città di mare non ti fa apprezzare il mare vedere ogni giorno per 365 giorni l'anno il mare non ti fa venire quella voglia di vederlo e quindi qua si è voluto fare una specie di inno al mare un mare che è assolutamente affascinante scoperto solo per il 5% chissà quante creature ci sono effettivamente sotto il mare più grandi più piccole che ancora sono sconosciute quindi questo pezzo come ho detto prima un omaggio al mare e anche alla mia città Alghero che ci sono